Se volete avere gratuitamente tutti i nuovi veicoli del DLC Mercenaries insieme a aggiunte di denaro e operazione MK2 Veicoli più costosi del gioco, tutte le proprietà modificate al massimo e tanto altro nel vostro account personale Oppure account moddati con miliardi in banca e ricorsa moddata per tutte le piattaforme a prezzi stracciati in tutta Italia Potete contattarmi nel nostro canale di descrizione come Telegram oppure Instagram Salve a tutti ragazzi e benvenuti e bentornati qui nel mio canale Io sono Krix, oggi ragazzi sono qui finalmente, signori mi ha ritornato con un nuovo video su GTA 5 Online Come avete letto dal titolo vi mostrerò un nuovo glitch Veramente molto semplice e veloce da fare per fare soldi infiniti in GTA Online in questo momento funzionante per tutte le console Chiedo scusa se mi sentite un po' raffreddato ragazzi, questa notte credo di aver preso un po' di freddo Comunque sia sto bene, non sono ammalato, l'unica cosa è che ho un po' le tonsille gonfie Quindi per questo motivo se mi sentite in questo modo è appunto per questo motivo Ma non vi preoccupate perché sto bene e nonostante questo riesco comunque a registrare video E insomma ragazzi oggi come avete letto dal titolo vi mostrerò un nuovo glitch per fare soldi infiniti in GTA Online Funzionante in questo momento che vi consentirà sostanzialmente di duplicare veicoli che successivamente potrete rivendere per fare soldi infiniti velocemente Questo glitch come avete letto dal titolo è massivo e questo significa che una volta che avrete eseguito la prima fase di questo glitch Per effettuare le duplicazioni non dovrete ripetere tutto il glitch da capo partendo dal primo step ma dovrete semplicemente partire dal secondo step che vi mostrerò in questo video Un glitch massivo consiste in due fasi ovvero c'è la prima fase che è quella in cui bisogna buggarsi Quindi insomma fare una serie di steps che vi consentiranno di andare in bug in un certo senso E poi c'è la seconda fase che vi consentirà di duplicare veicoli in questo caso massivamente Quindi senza ripetere il glitch da capo Riguardo questo glitch massivo per duplicare veicoli ci ho fatto veramente tantissimi video che trovate qui sul canale E oggi ragazzi sono qui in cui vi mostrerò una nuova versione che ho scoperto su internet per duplicare veicoli Per chi comunque sia conosce già questo glitch è sostanzialmente un glitch che andremo a cominciare partendo dalla base operativa E molti di voi sicuramente se avrete eseguito gli ultimi glitch che ho caricato sul canale sanno già di cosa sto parlando In questa versione non vi servirà la clubhouse né altri requisiti che con i video precedenti riguardo questo glitch dovevate avere per usufruire di questo glitch E quindi di duplicare veicoli in modo massivo Per fare questo glitch non vi servirà la targa personalizzata Quindi vuol dire che ogni duplicazione che andrete a fare la targa andrà a cambiare E quindi andrà a prendere una targa di un veicolo che andrete a chiamare tramite il meccanico alla fine del glitch E appunto la targa del veicolo che andrete a sacrificare per insomma convertire il veicolo da un veicolo inutile Come per esempio una LG RH8, un Faggio, un Sanchez e i veicoli del genere In una ISI o comunque sia un veicolo di Bennis modificato al massimo Perché ovviamente più modifiche andrete a mettere al veicolo Maggiore sarà il guadagno alla vendita di questi veicoli Come vi ho già detto all'inizio del video questo glitch funziona per tutte le console Quindi vuol dire che anche se siete sulle console next gen Quindi PlayStation 5 oppure Xbox Series e giocate alla versione di GT Online con il menu carriera Potrete fare questo glitch senza problemi perché funziona anche su quelle console Io ovviamente ho registrato da PS4 ma il glitch ragazzi comunque sia Funziona per anche le console next gen quindi anche sul GT Online con il menu carriera Spero di avervi spiegato tutto quanto in questi primi minuti del video Ovviamente poi per maggiori approfondimenti c'è la sezione dei commenti Quindi lasciate un commento e cercherò di rispondervi il più velocemente possibile Detto questo quindi ragazzi che dire Nulla prima di cominciare sapete già cosa fare Mi raccomando lasciate il vostro mitico bel pollicione Sonzi in su a questo video che a me fa veramente dettagli Mi raccomando iscrivetevi al canale per altri contenuti se non l'avete ancora fatto E soprattutto iscrivetevi se volete diventare miliardari su GT Online Questo è il canale che fa per voi Direi che possiamo subito cominciare partendo dai requisiti E come al solito tutti i requisiti ve li lascerò qua sotto nella descrizione di questo video L'unica parentesi che voglio aprire sui requisiti riguarda l'inizio del glitch Perché vi servirà un invito del colpo di Lester della base operativa Quindi requisito importante ragazzi avere la base operativa Su questo discorso della base operativa ci sono diversi modi per iniziare il glitch Alcuni di questi modi li trovate nei video precedenti riguardo questo glitch che ho già caricato sul canale Per chi magari è il primo video che guarda su questo glitch Il requisito importante per iniziare appunto a fare questo glitch per duplicare veicoli È avere un invito di Lester della base operativa Quindi dovrete avere almeno un colpo iniziato all'interno della vostra base operativa Non importa se il colpo è un colpo finale oppure la preparazione L'importante è che appunto avete un invito di Lester della base operativa Sarebbe il seguente che state guardando in questo momento del video Per avere questo invito appunto dovrete anzitutto avere un colpo attivo della base operativa Che dovrete per esempio proseguire come per esempio il caso Bogdan E dovrete essere in sessione essendo un presidente CEO Oppure un Motorcycle Club per almeno 15-20 minuti di gioco Essendo appunto o un presidente oppure un CEO Dopo questi 15-20 minuti che passeranno stando all'interno della sessione Lester dovrebbe inviarvi questo invito E questo è molto importante per iniziare il glitch Perché dovremo appunto andare all'interno della base operativa utilizzando questo invito Quindi mi raccomando se non avete un colpo attivo Prima di cominciare a fare questo glitch Andate nella vostra base operativa e appunto iniziate un colpo Non è necessario avere il colpo finale L'importante è avere almeno una missione di preparazione Che insomma dovrete svolgere per arrivare al colpo finale Ecco appunto dovrete cercare un modo per avere questo invito di Lester alla base operativa Oppure potete cominciare il glitch andando nella base operativa Facendovi invitare da un amico se il vostro amico ha la vostra stessa base operativa Oppure più semplicemente utilizzando il glitch del teletrasporto Insomma ragazzi su questo step iniziale della base operativa ci sono diversi modi Vi lascerò i migliori qua sotto nella descrizione oppure nel primo commento Detto questo quindi nulla scusatemi per il lungo pippone riguardo questa cosa della base operativa Ma ci tenevo ad essere chiaro e specifico a riguardo Direi di non perdere tanto altro tempo e buttiamoci subito nel vivo del glitch La prima cosa da fare sarà ovviamente entrare in GTA Online Io consiglio di fare la sessione per amici in quanto vi servirà più avanti Insomma ragazzi per iniziare il glitch fate una sessione per amici e dite al vostro amico di entrare all'interno della vostra sessione Se fate la sessione per amici non è necessario inviare un invito all'amico per entrare all'interno della vostra sessione Basterà che il vostro amico vada nella sua lista di amici, trova il vostro profilo e partecipa alla sessione Se invece fate una sessione solo ad invito dovrete invitare il vostro amico tramite la lista di amici nel menu di pausa di GTA Online Quindi insomma per risparmiare tempo fate la sessione per amici La sessione per amici sarà molto più comoda per tutto l'intero svolgimento del glitch Una volta che quindi sarete all'interno della sessione sia voi che il vostro amico potrete cominciare con il glitch Quindi per cominciare con il glitch la prima cosa da fare sarà andare alla vostra base operativa Come vi ho già detto nel capitolo dei requisiti per andare alla base operativa avrete diverse opzioni Potrete utilizzare un veicolo dei civili per raggiungere la vostra base operativa Il problema però è che se avete la base operativa a Paleto Bay e magari siete a Los Santos dovrete guidare un bel po' con il veicolo dei civili Oppure più semplicemente potete usare il glitch del teletrasporto se lo sapete fare usando le attività oppure spegnendo il joystick Oppure dite al vostro amico di entrare nella sua base operativa se ha la vostra stessa base operativa Vi manda l'invito voi entrate uscite dalla sua base operativa una volta che sarete entrati ed entrate all'interno della vostra base operativa Oppure come vi mostrerò fra poco nel video dovrete iniziare questo glitch andando nella lista di attività sul cellulare E qui ragazzi troverete l'invito di Lester per continuare uno dei colpi che avete attivi all'interno della vostra base operativa Quindi per ricevere questo invito come vi ho già detto nel capitolo dei requisiti dovrete diventare un CEO oppure un presidente di un motorcycle club E essere un CEO oppure un presidente per almeno 15-20 minuti di vita reale fin quando non avrete questo invito Una volta che ce l'avrete potrete quindi iniziare Quindi alzate il telefono andate sull'ista di attività Andate sull'invito di Lester per continuare il colpo della base operativa Che avrà questo colore mischiato tra un verde acqua e un blu celeste Entrate all'interno dell'invito e qui ragazzi in questa schermata confermate con il tasto X oppure invio se siete su PC Oppure il tasto A su Xbox per appunto entrare all'interno della base operativa tramite il colpo di Lester E quindi ripeto dovrete avere un colpo attivo nella vostra base operativa A questo punto aspettate il caricamento e come potete vedere sarete all'interno della base operativa Quindi della vostra base operativa personale e ora potrete continuare Quindi vi troverete davanti diciamo alla stanza dove entrando potrete avviare il colpo Non dovrete avviare il colpo ma dovete semplicemente andare diciamo nell'atrio centrale Quindi diciamo nello spazio dove c'è il parcheggio dei veicoli oppure della Wenger Ecco quindi fate come state vedendo dal video Quindi andate nell'atrio della vostra base operativa Mentre state andando nell'atrio della vostra base operativa semplicemente aprite il menu interazione Andate su gestione base operativa invita nella base operativa E qui ragazzi inviate quindi un invito al vostro amico che dovrà entrare all'interno della vostra base operativa Quindi confermate di voler inviare l'invito mentre appunto state andando qui in questo atrio dove come potete vedere c'è questo cerchio giallo Che vi consentirà se ci camminate sopra di uscire dalla base operativa Non dovrete uscire dalla base operativa dovrete semplicemente salire su uno dei veicoli che avrete all'interno della vostra base operativa Quindi mentre il vostro amico entra all'interno della vostra base operativa semplicemente voi salite su un veicolo Sarebbe preferibile utilizzare un veicolo armato come per esempio il Manager, la Toriador, la Scramjet e veicoli del genere Ora aspettate che il vostro amico entri all'interno della vostra base operativa E quando sarà entrato dovete dirgli semplicemente di salire all'interno del veicolo con voi Quindi dovrà salire come passeggero all'interno del veicolo in cui voi siete all'interno Una volta che sia voi che il vostro amico sarete all'interno del veicolo dovrete entrare all'interno della Wenger Quindi la Wenger dovrà trovarsi all'interno della vostra base operativa e non all'interno dell'Hangar Premette la freccia sinistra per entrare all'interno del retro della Wenger con questo veicolo e aspettate la schermata di caricamento Quando sarete all'interno della Wenger come potete vedere vi troverete con questo menu delle modifiche che si aprirà sulla sinistra Quello che dovrete fare in questo menu sarà non fare niente ma con questo menu aperto dovrete semplicemente tornare indietro tramite il tasto B su Xbox oppure cerchio su Playstation E come potete vedere il gioco vi darà questo menu con queste tre seguenti opzioni ovvero esci dall'officina della Wenger, esci dal veicolo oppure esci dalla Wenger Quello che dovrete fare voi sarà cliccare sulla prima opzione che il gioco vi darà già selezionata ovvero esci dall'officina della Wenger Quindi confermate con il tasto X su Playstation oppure A su Xbox e come potete vedere una volta che andrete a confermare vi troverete in questa posizione Quando sarete in questa posizione non dovrete fare nulla quindi state fermi Quello che dovrete fare sarà alzare il telefono andare nei contatti e chiamare l'agente 14 Questo perché adesso ci servirà richiedere un'attività di ricerca del bunker dal nostro agente 14 Quindi se non avete il contatto dell'agente 14 è perché non avrete un bunker acquistato e allestito Quindi altro requisito importante mi raccomando avere un bunker acquistato e allestito perché altrimenti non potrete chiamare l'agente 14 Quindi chiamate l'agente 14 e aspettate che l'agente 14 vi andrà a rispondere Quando l'agente 14 vi risponderà come potete vedere in alto a sinistra vi si aprirà questo menu In cui il gioco come prima opzione selezionata vi darà questa seguente opzione ovvero richiedi attività di ricerca del bunker Ora attenzione qui mi raccomando ascoltatemi attentamente Prima vi spiego quello che dovete fare poi vi faccio vedere come effettuare questo step Quello che dovrete fare con questo menu a tendina sarà semplicemente confermare con il tasto X Di voler richiedere un'attività di ricerca del bunker dall'agente 14 subito dopo senza perdere tempo Dovrete premere la freccia a destra per entrare all'interno del menu delle modifiche Quindi X se siete appunto da Playstation oppure il tasto A su Xbox su questa prima opzione richiede attività di ricerca del bunker Subito dopo premete freccia a destra per entrare all'interno del menu delle modifiche della Wenger con questo veicolo Dovrete ragazzi essere veramente velocissimi più veloci che potete X freccia a destra X freccia a destra veramente ragazzi facilissimo Quindi X per richiedere l'attività di ricerca del bunker freccia a destra per entrare all'interno del menu delle modifiche Non dovrete ragazzi perdere tempo perché questo è uno step molto importante Ora ve l'ho spiegato adesso ve lo faccio vedere Quando avrete questo menu a tendina semplicemente confermate di voler richiedere l'attività di ricerca del bunker dall'agente 14 Appena avete cliccato per confermare andate subito a premere il tasto freccia a destra per entrare all'interno del menu delle modifiche della Wenger Quindi confermate subito dopo come potete vedere il gioco vi dirà premi freccia a destra per entrare all'interno del menu delle modifiche Voi quindi ragazzi premete freccia a destra e boom sarete all'interno del menu delle modifiche Quando vi troverete su questo menu delle modifiche aperto mi raccomando non e ripeto non fate niente Quindi non cliccate nessun tasto dovrete praticamente aspettare che questo menu delle modifiche vada via da solo Ci vorranno circa 5-10 secondi prima che il menu delle modifiche questo qui insomma sulla sinistra vada via da solo Quindi dovrà adesso scomparire questo menu delle modifiche Quindi aspettate fin quando come potete vedere il menu delle modifiche andrà a scomparire E il gioco vi darà un messaggio in alto a sinistra in cui vi dirà che l'officina non è disponibile Se avete fatto quindi questo step dell'agente 14 correttamente quindi X sull'attività freccia a destra per entrare all'interno del menu delle modifiche della Wenger A questo punto quando sarete nel menu delle modifiche aspettate circa 5-10 secondi subito dopo il menu delle modifiche andrà via da solo E avrete appunto la schermata officina non disponibile in alto a sinistra nella vostra schermata Ora quindi dovrete proseguire Per proseguire dovrete semplicemente uscire dalla Wenger premendo il tasto per accelerare oppure per fare retromarcia Su Playstation sarà il tasto R2 per accelerare oppure L2 per fare retromarcia Quindi cliccate uno di questi due tasti e come potete vedere il gioco adesso vi porterà in una schermata nera di caricamento infinita Ora quello che dovrete fare in questa schermata nera di caricamento infinita sarà semplicemente andare a partecipare da un amico Comunque un giocatore che stia giocando a GTA Online possibilmente in una sessione privata Quindi in una sessione solo ad invito Se come me non avete amici che potete usare per partecipare a questo punto del glitch Andate semplicemente a utilizzare Anawak in base alla vostra console Quindi quando avrete questa schermata nera di caricamento infinita Premete il tasto PS Andate nella vostra lista di amici E qui ragazzi cercate quindi Anawak o comunque un amico che stia giocando a GTA Online Possibilmente in una sessione solo ad invito Quindi cercate Anawak in base alla vostra console Se siete su PS5 però state giocando all'applicazione di PS4 Fate attenzione all'Anawak a cui partecipate Per capire se l'Anawak a cui state partecipando è un Anawak che sta su PS5 o su PS4 Basterà andare nel suo profilo Andare su panoramica Cliccare freccia in giù E come potete vedere il gioco vi porterà su questa schermata Ora su questa finestra cliccate X per entrare Come potete vedere in basso a tutto Qui ci sarà scritto PS4 oppure PS5 Se l'Anawak quindi che state utilizzando si trova su PS4 In questa finestrella in basso a tutto Come potete vedere su versioni compatibili Si sarà scritto PS4 oppure PS5 Se è PS5 allora vuol dire che l'Anawak che state utilizzando Sta giocando su GTA 5 per Next Gen Quindi sta giocando al GTA Online con il menu carriera Altrimenti se questo riquadro vi dice PS4 Allora vuol dire che l'Anawak che state utilizzando Si trova in una sessione di PS4 Quindi insomma alla vostra stessa versione In questo caso se come me state giocando da PS5 Ma all'applicazione per PS4 In ogni caso ragazzi vi lascerò tutti gli ID di Anawak In modo corretto In base alla piattaforma dove giocate In questo modo non dovrete diciamo capire Se l'Anawak si trova su 5 o su 4 Ma troverete appunto la lista di tutti gli ID di Anawak Qua sotto nella descrizione da usare Per partecipare a questo punto del glitch Quindi semplicemente a questo punto partecipate Aspettate il recupero dettagli E subito dopo come potete vedere Il gioco vi darà una schermata In cui vi chiederà se volete partecipare A una diversa sessione di GTA Online Ora quello che dovrete fare su questo messaggio Sarà semplicemente spammare X su questo messaggio Per accettare questo messaggio in cui il gioco Vi chiederà di partecipare a una sessione diversa di GTA Online Ma anche per confermare tutti gli altri messaggi di avviso Che a questo punto vi compariranno Quindi adesso una volta aver confermato tutti i messaggi Ci sarà una schermata nera Che durerà circa 15-20 secondi Voi ragazzi aspettate questa schermata Fin quando come potete vedere Non andrete a spawnare in free mode E quindi a questo punto voi vi sarete sbaggati Dalla schermata nera di caricamento infinita della Wenger Ora quindi vi chiamerà l'agente 14 Dovrete semplicemente accettare la chiamata E subito dopo attaccare con il tasto cerchio su Playstation Oppure il tasto B su Xbox Quindi rifiutate la chiamata E ora dovrete semplicemente andare a far sbaggare il vostro amico In quanto anche il vostro amico si troverà in una schermata nera Di caricamento infinita Quindi a questo punto raggiungete il veicolo con cui avete iniziato il glitch Nel mio caso questa Toriador E come potete vedere all'interno del veicolo ci sarà il vostro amico Che appunto sarà buggato in una schermata nera di caricamento infinita Quindi adesso semplicemente dovrete ammazzare il vostro amico Quindi tirate fuori una pistola, un fucile, una carabina, quello che volete E sparate in testa al vostro amico per appunto ammazzarlo Ora quindi aspettate che il vostro amico andrà a respawnare sopra la mappa Quando il vostro amico sarà respawnato si sarà sbaggato Quindi non avrà più la schermata nera di caricamento infinita Quindi fatevi dare l'ok che il vostro amico si è sbaggato E una volta che il vostro amico sarà sbaggato Per proseguire quello che dovrete fare sarà semplicemente aprire il menu di pausa Andare su online ragazzi ed entrare all'interno del creatore Quindi andate su creatore, confermate e ora semplicemente lasciate caricare il creatore Quando il creatore va caricato ora dovrete semplicemente ritornare all'interno della sessione Dove si trova il vostro amico Per questo motivo vi ho detto prima all'inizio del glitch di creare una sessione solo ad amici In questo modo l'amico adesso non deve inviarvi l'invito alla partita Ma vi basterà semplicemente andare nel tasto PS oppure nel tasto Xbox Andare nella vostra lista di amici e quindi partecipare dal vostro amico In quanto per la sessione per amici non servirà avere appunto un invito per la sessione Basterà semplicemente che voi andiate sul profilo dell'amico Andate a partecipare e insomma confermate di voler entrare all'interno della sessione E a questo punto quando il gioco vi chiederà Sei sicuro di voler unirti a una sessione di GTA Online eccetera eccetera Qui ragazzi insomma confermate il messaggio di attenzione A questo punto quindi una volta aver confermato Aspettate di spawnare all'interno della sessione Quando sarete spawnati a questo punto ragazzi potrete iniziare a duplicare Quindi tutti gli steps che avete fatto fino a questo punto del video sono gli steps della fase iniziale Ovvero la fase per buggarvi per far sì che successivamente potrete duplicare veicoli in modo massivo Quindi adesso inizia la seconda fase per appunto duplicare veicoli a manetta Tutto quello che avete fatto fino a questo punto del glitch era lo step diciamo iniziale Quindi la fase 1 che è quella per buggarsi Ora quindi ragazzi inizia la fase 2 che è quella per duplicare Quindi mi raccomando ascoltatemi attentamente Una volta che sarete rientrati all'interno della sessione con il vostro amico Se non siete nei pressi dell'arena Ora dovrete semplicemente raggiungere l'arena Andate a prendere il veicolo con cui avete iniziato il glitch Insomma il veicolo della base operativa Nel mio caso io ho utilizzato la Toria d'Or Quindi salite all'interno del veicolo E fate salire il vostro amico con voi come passeggero all'interno di questo veicolo Una volta che quindi sarete entrambi all'interno del veicolo Raggiungete la vostra arena E parcheggiate il veicolo possibilmente insomma un po' lontano ecco Dall'entrata della vostra arena Più o meno cercate di copiare la posizione dove parcheggiare questo veicolo Che state guardando in questo momento del video Se invece a questo punto sarete respawnati nei pressi dell'arena Non dovrete fare questo step Dovrete fare questo step di raggiungere l'arena Solamente se non siete spawnati sia voi che il vostro amico Nei pressi dell'arena dopo aver fatto il bug insomma della venga Quindi una volta che sarete arrivati all'arena Voi dovrete semplicemente scendere dal veicolo E il vostro amico dovrà rimanere all'interno del veicolo come passeggero Quindi scendete dal veicolo e come potete vedere il vostro amico Siederà ancora all'interno del veicolo come passeggero Se non avete quindi l'accesso al veicolo impostato a passeggeri Semplicemente aprite il menu interazione Andate su veicoli e poi su accesso al veicolo E qui ragazzi impostate l'accesso al veicolo a passeggeri Ovviamente fate questo step prima di far salire con voi il vostro amico Quindi impostate l'accesso al veicolo a passeggeri se non l'avete fatto prima E una volta che quindi avrete impostato l'accesso al veicolo Quello che dovrete fare sarà dire al vostro amico di stare all'interno del veicolo In questo caso la Toriador che è quello con cui ho iniziato il glitch dalla base operativa Dovrete quindi aprire il menu interazione Andare su veicoli e successivamente riportare il veicolo personale al deposito Quindi dovrete semplicemente cliccare X per riportare il veicolo personale al deposito Una volta aver confermato questa operazione Come potete vedere nel gioco non succederà niente Se invece il vostro amico scende dal veicolo Allora vuol dire che non avrete eseguito la prima fase del glitch in modo corretto Se invece rimane all'interno del veicolo Allora vuol dire che il glitch sta funzionando Quindi voi vi siete buggati correttamente Ora quello che dovrete fare sarà chiudere il menu interazione Ed entrare all'interno della vostra arena Quindi avvicinatevi al pallino blu per entrare all'interno della vostra arena Quando il gioco vi chiederà che cosa volete fare qui nel menu a tendina in alto a sinistra Dovrete scegliere il piano dell'arena dove avete il veicolo da duplicare Quindi entrate all'interno del piano dell'arena dove avete il veicolo da duplicare E una volta fatto questo quando sarete all'interno Dovrete ora quindi salire all'interno del veicolo che volete duplicare Nel mio caso andrò a utilizzare una ISSI versione Future Shock modificata al massimo Vi ricordo ovviamente di duplicare solo veicoli di Bennis oppure di Arena War Perché sono quelli che possono essere duplicati a manetta e ogni copia di questi veicoli varrà sempre il valore pieno E non quindi il prezzo delle modifiche come se per esempio duplicate delle Super Se per esempio una ISSI modificata al massimo vale 1.800.000 e fate 10 copie Tutte queste 10 copie varranno sempre 1.800.000 dollari Quindi mi raccomando solo veicoli di Bennis oppure di Arena War Perché sono quelli che fanno guadagnare di più rispetto a tutti gli altri veicoli presenti all'interno del gioco Dovrete salire all'interno del veicolo che volete duplicare Quando il gioco vi chiederà di premere freccia destra per entrare all'interno dell'officina Voi ragazzi premete quindi freccia destra per entrare all'interno del menu delle modifiche All'interno dell'arena con il veicolo che volete duplicare Ora quindi quando avrete questo menu delle modifiche semplicemente fate una modifica qualsiasi al veicolo Quindi cambiate la targa, i finestrini, i freni e cose del genere Se ovviamente state utilizzando una ISSI moddata e questa ISSI ha la targa Yankton Oppure il colore moddato o le ruote o ancora il fumo delle ruote Non dovrete ovviamente andare a cambiare questi particolari come il colore, la targa e via dicendo Ma cambiate appunto i freni, un pezzo di telaio oppure un paraurti Va benissimo lo stesso Io in questo caso andrò a modificare i finestrini Quindi fate una modifica qualsiasi al veicolo E una volta fatto questo uscite dal menu della modifica In questo caso dai finestrini E premete nuovamente il tasto cerchio per tornare indietro Quando andrete a premere il tasto cerchio su Playstation Oppure il tasto B su Xbox per tornare indietro Come potete vedere il gioco vi darà questo menu in cui vi chiederà di uscire dall'officina Oppure uscire dall'arena Quello che dovrete fare sarà quindi confermare con il tasto X su Playstation Oppure il tasto A su Xbox di voler uscire dall'arena con questo veicolo Quindi confermate appunto di voler uscire dall'arena con questo veicolo Ora quindi aspettate la schermata di caricamento E una volta che sarete fuori L'ultima cosa che vi resta da fare Sarà semplicemente chiamare il meccanico Richiedere un veicolo che volete sacrificare E quindi terminare la duplicazione Prima di farvi vedere questo Vi faccio vedere ragazzi la targa del mio veicolo Che in questo caso come potete vedere è targato Krix Vi dimostrerò fra pochissimo nel video Che la targa andrà a cambiare E quindi questo si trasformerà in un veicolo duplicato Che potremo vendere per appunto fare soldi E ogni duplicazione come vi ho detto all'inizio del video Avrà una targa diversa E quindi questo sostanzialmente vi consentirà Di non rischiare di prendere blocchi pesanti Nel vostro account come per esempio Una vendita ogni 30 ore Ma appunto vendendo sempre auto con targa diverse Potete vendere addirittura 30 auto in un giorno Non sto scherzando se ovviamente non avete mai venduto auto Perché se vendete auto con la stessa targa Dopo due vendite vi bloccano le vendite Mentre invece vendendo veicoli con targa diverse Non avrete questo problema di blocco vendite Anche se ovviamente vi consiglio di non esagerare con le vendite Quindi mi raccomando ragazzi attenzione alla targa Il veicolo andrà a prendere la targa della LG O comunque del veicolo da sacrificare Che andiamo a chiamare Adesso quindi come vi stavo dicendo Semplicemente per concludere la duplicazione Alzate il telefono Andate nei contatti Chiamate il meccanico E aspettate che il meccanico vi risponderà Una volta che il meccanico vi andrà a rispondere Vi si aprirà la lista insomma delle proprietà Come anche dei veicoli che avete all'interno di queste proprietà E ora semplicemente chiamate un veicolo da sacrificare Quindi un veicolo che non vi importa perdere Quindi veicoli come LG RH8 Che si possono acquistare gratuitamente Faggio che sono delle moto Sanchez, Rebel E insomma veicoli che non vi importa perdere Che appunto siete disposti a sacrificare Per salutare il veicolo da sacrificare Quindi un veicolo di meccanico Con una copia di una ISSI Che la potrete vendere Per appunto fare soldi Potete anche richiedere il veicolo da sacrificare A questo punto del glitch Dallo stesso piano dell'arena Dove avete il veicolo da duplicare Non succede nulla Se per esempio nel piano dell'arena Dove avete il veicolo da duplicare Avete una o più LG RH8 Quindi avete uno o più veicoli da sacrificare Non vi preoccupate Lo potete richiedere tranquillamente E il glitch funziona ugualmente Quindi richiedete un veicolo che volete sacrificare E aspettate dunque che il veicolo verrà consegnato Ora quello che succede sarà che il veicolo non verrà consegnato O meglio verrà consegnato Ma questo non andrà a comparire sopra la mappa Quindi vuol dire che dovrete adesso aspettare circa 10 15 secondi per diciamo fare in modo che il gioco possa far spawnare Per finta il veicolo che avete richiesto da insomma sacrificare Quindi aspettate circa dai 5 ai 10 secondi E una volta che questi 10 secondi saranno passati Dite al vostro amico di scendere dal veicolo Che se vi ricordate bene Prima abbiamo rimandato al deposito tramite il menu interazione Come il vostro amico andrà a scendere dal veicolo Come potete vedere boom la targa andrà a cambiare E quindi significa che questo è un veicolo duplicato E ora quindi dovrete salvare questo veicolo E venderlo successivamente per appunto fare soldi infiniti Prima il veicolo era targato Crix Ora come potete vedere il veicolo ha preso una targa alfanumerica Che sarebbe la targa del veicolo che abbiamo richiesto dal meccanico E quindi ora significa che questo è un veicolo duplicato Adesso per salvare questo veicolo semplicemente dovrete richiedere il vostro centro operativo mobile Quindi aprite il menu interazione Andate su servizi centro operativo mobile E richiedete appunto il centro operativo mobile Quindi confermate e aspettate che il centro operativo mobile vi verrà consegnato Una volta che il centro operativo mobile vi verrà consegnato Semplicemente guidate appunto fino a raggiungere il vostro com E una volta che avete raggiunto il vostro com avvicinatevi al retro del centro operativo mobile Andate quindi sopra il cerchio blu Quando vi andrete ad avvicinare il gioco vi dirà di premere freccia destra Per lasciare il veicolo all'interno del vostro centro operativo mobile Premette freccia destra per lasciare il veicolo all'interno del centro operativo mobile Se il gioco vi chiederà di sostituire perché all'interno del centro operativo mobile esiste già un veicolo Non vi preoccupate confermate la sostituzione A me in questo caso come avete visto non mi ha detto che il centro operativo mobile era pieno A voi se lo dice non vi preoccupate Confermate e il veicolo che si trova all'interno del centro operativo mobile Verrà spostato nella proprietà dove avete chiamato il veicolo da sacrificare A questo punto quindi il glitch ragazzi sarà praticamente finito Avremo duplicato una delle tante copie che adesso potremo fare massivamente senza ripetere il glitch da capo Quindi avremo salvato una copia di questo veicolo E ora quindi se vogliamo continuare a duplicare e quindi fare altre copie Lo potrete fare tranquillamente tramite la spiegazione che vi spiegherò tra poco Quindi adesso abbiamo questo veicolo duplicato salvato correttamente E quindi lo potremo rivendere successivamente per fare soldi infiniti più avanti Oppure più semplicemente quando abbiamo finito di effettuare tutte le nostre copie con questo glitch Adesso quindi se volete continuare vi spiego come fare Quello che dovrete fare per fare altre duplicazioni Sarà semplicemente ora entrare all'interno del veicolo che si trova all'interno del centro operativo mobile Quindi il veicolo con cui insomma siete entrati e quindi salite all'interno e premete il tasto per accelerare Oppure per fare retromarcia per uscire dal vostro centro operativo mobile Quando sarete fuori dovrete praticamente portare questo veicolo al vostro amico Che come potete vedere si troverà ancora lì fermo in attesa del veicolo Quindi raggiungete il vostro amico Ditegli di salire all'interno del veicolo con voi Come potete vedere il vostro amico salirà ora come passeggero Quando il vostro amico sarà salito come passeggero Ora scendete dal veicolo E come potete vedere il vostro amico rimarrà ancora seduto come passeggero Aprite il menu interazione Andate su veicoli e riportate il veicolo personale al deposito Quindi confermate di voler riportare il veicolo personale al deposito Come potete vedere non succederà niente Il vostro amico rimarrà quindi ancora all'interno dell'auto Quindi chiudete il menu interazione Entrate all'interno del piano dell'arena dove avete il veicolo che volete duplicare Selezionate il piano dove avete il veicolo da duplicare Lasciate caricare e una volta che sarete all'interno Salite nuovamente nel veicolo che volete duplicare E premete la freccia destra per entrare all'interno del menu delle modifiche Quando sarete all'interno del menu delle modifiche Semplicemente ora fate una modifica qualsiasi al veicolo Quindi cambiate appunto freni, un pezzo di telaio, un pezzo delle armi, un pezzo del paraurti Se ovviamente avete i veicoli moddati Se invece avete una ISSI normalissima senza targa Yankton eccetera Cambiate tranquillamente la targa e a posto Fatta la modifica tornate indietro con il tasto cerchio oppure il tasto B su Xbox Fino ad avere questo menu di uscita Quando avrete questo menu di uscita in cui il gioco vi dirà Esci dall'officina oppure esci dall'arena Qui ragazzi semplicemente confermate di voler uscire dall'arena Quindi confermate, aspettate di spawnare fuori ai piedi della vostra arena E ora vi basta semplicemente nuovamente alzare il telefono Andare nei contatti, chiamare il meccanico e richiedere un nuovo veicolo da sacrificare Quindi un veicolo che appunto andrete a sacrificare per insomma dare il posto al veicolo che state usando per duplicare Se prendete sempre il veicolo originale Quindi se per esempio avete un veicolo con la targa Roxar Ok? Quindi una targa personalizzata Prendete sempre quel veicolo In questo modo potrete capire se la duplicazione sarà riuscita correttamente o meno Perché la targa andrà a cambiare Se la targa da insomma una targa personalizzata con la scritta Roxar Va a cambiare e prende una targa alfanumerica del gioco Allora vuol dire che la duplicazione è riuscita correttamente Se invece la targa non cambia vuol dire che non avete eseguito la duplicazione correttamente Quindi come avete visto dal video richiedete il veicolo da sacrificare Aspettate circa dai 5 ai 10 secondi E una volta che saranno passati questi 10 secondi Dite al vostro amico di scendere dal veicolo La targa andrà a cambiare Ora dovrete semplicemente salvare il veicolo all'interno del centro operativo mobile Quindi recatevi sul retro Premete freccia destra Se il gioco vi dà il messaggio Deposito veicolo personale pieno Non vi preoccupate Accettate e aspettate quindi di entrare all'interno del vostro centro operativo mobile Una volta fatto questo Boom avrete effettuato un'altra duplicazione Adesso quindi per ripetere come prima Salite all'interno del veicolo all'interno del centro operativo mobile Guidate per uscire fuori Portate il veicolo all'amico Il vostro amico sale all'interno del veicolo Voi riportate il veicolo al deposito Entrate all'interno dell'arena Salite sul veicolo da duplicare Premete freccia destra per fare una modifica Fate una modifica Uscite dall'arena Chiamate il meccanico Richiedete il veicolo Aspettate dai 5 ai 10 secondi Fatto questo Il vostro amico scende La targa cambia E boom Altra duplicazione Effettuata correttamente E quindi ragazzi Adesso vi basterà semplicemente Continuare da questo passaggio Di portare il veicolo all'amico E poi di riportarlo al deposito Tramite il menu interazione Per fare tutte le copie che volete Che successivamente potrete vendere Per appunto fare soldi infiniti Come avete visto ragazzi Insomma questo è il glitch Che volevo presentarvi oggi E lo so La spiegazione dura oltre 40 minuti Ma vi posso assicurare Che questo glitch Una volta che ci avrete preso la mano Quindi avrete imparato Il meccanismo Come funziona E tutto quanto Ci impiegherete veramente 5 minuti contati Per fare il primo step E anche per fare il secondo step Per duplicare Basterà semplicemente ragazzi Seguire la spiegazione Passo per passo Nel canale ripeto Ho già caricato Tanti altri video Riguardo di questo glitch Che appunto trovate Nel canale Quindi se magari Questa spiegazione Non vi è bastata Cercate nel canale E troverete altre versioni Di questo glitch Che appunto Oggi vi ho mostrato La differenza Tra questo glitch Di oggi E gli altri glitch Di duplicazione massiva Che funzionano Allo stesso modo Che trovate già sul canale È il fatto di Invece di diventare Un presidente Di un motorcycle club E richiedere la moto E poi entrare All'interno dell'arena Non dovrete diventare Un presidente Quindi non vi serve La clubhouse Come anche una moto Ma vi basterà Semplicemente Riportare il veicolo Al deposito Che funziona un po' Come appunto La stessa cosa Del motorcycle club Solo che invece Che appunto Utilizzare il motorcycle club Andrete a riportare Il veicolo al deposito E in questo modo Fare questo Secondo step Quindi insomma Questa seconda fase Per duplicare veicoli Sarà molto più semplice Delle altre Perché appunto Ci metterete meno tempo Sarete più veloci Ad effettuare Queste duplicazioni E quindi insomma In circa 24 ore Più o meno Una giornata Una giornata e mezza Potrete riempire Il vostro account Di veicoli duplicati Ognuno con ovviamente Targa diversa E questo vi salva Anche dall'avere Un limite vendita pesante E quindi ragazzi Insomma Io spero Abbiate apprezzato Vi consiglio ovviamente Di approfittare Quindi di fare Questo glitch Prima che sia troppo tardi E prima che Roxar vada A pacciare Questo glitch Detto questo Ragazzoli miei Quindi nulla Questo glitch Si conclude qua Io spero Abbiate apprezzato Se così è stato Mi raccomando Lasciate il vostro Mi dico bel A questo video Che a me fa Mi raccomando Iscrivetevi al canale Per altri contenuti Se non lo avete ancora fatto Io signori Vi saluto Vi ringrazio Grazie per tutti Per il supporto Grazie per l'ascorto E grazie per la compagnia Vi ricordo di venire A seguirmi Su tutti i miei social Che trovate qua sotto Nella descrizione Come Telegram Instagram Facebook TikTok Twitter Troverete tutto quanto Qua sotto Nella descrizione Se invece non volete Rompervi i code Con questi glitchi Di duplicazione Ma volete avere qualcosa Di più sostanzioso E succulento Con consegna In giornata Troverete il link Del mio shop Qua sotto Nella descrizione Per raggiunta Di denaro Presso l'MK2 Da vendere nel vostro account Per tutte le piattaforme Con consegna In giornata Oppure account moddati Con miliardi Corsa moddata Completi moddati Pitture Halloween Abilità al massimo E non mi ricordo Che altro Anche questi A prezzi stracciati Con consegna Immediata Dei dati Per qualsiasi piattaforma Digiti online Link del mio shop Qua sotto Nella descrizione Mi raccomando ragazzi Passate Perché per me È davvero molto importante E soprattutto passate Se volete dare Un aiuto economico Ad un fra Qui su youtube Per pagarsi La corrente La wifi Per ovviamente Continuare A caricare video Qui sul mio canale Perché se no Se mi staccano la corrente Mi staccano la wifi Perché non ho soldi Per pagarla È un macello E un clicks Non vi può portare I video Quindi mi raccomando Passate Detto questo ragazzoli miei Quindi nulla Io vi saluto Vi ringrazio Non ho altro da aggiungere Qua da clicks È tutto E noi Come al solito Ci si becca Con un prossimo video Prossima live Un prossimo glitch Bella Chau! Chau! Chau!